Buongiorno a tutti, sono ancora qui a registrare un video sulla situazione ucraina nella giornata del 17 marzo, quindi stiamo parlando oramai di qualche settimana dall'inizio dell'ostilità in Ucraina, della guerra in Ucraina e dell'attacco russo all'Ucraina. Mi ero ripromesso di non parlare più di Ucraina e di fare soltanto un'eccezione in occasione del video precedente che ho pubblicato all'inizio del conflitto. Faccio un'ulteriore eccezione che in realtà eccezione non è, perché oggi parlerò di Ucraina, non parlando di Ucraina o meglio, non parlerò di Ucraina, pur parlando di Ucraina parlerò più che altro anche di noi. Questo per sottolineare un po' l'enorme legame che oramai questo conflitto ha con tutti noi, soprattutto nella parte orientale dell'Unione Europea. Basta fare un giro per le città della Polonia e la visione, l'incontro, l'interazione anche con profughi ucraini che scappano dalla guerra, soprattutto donne e bambini, è purtroppo un'esperienza quotidiana. Quindi questo non posso negare qualcosa che mi ha particolarmente toccato, appunto, vedere con mano persone, aiutare anche donne e bambini che, insomma, stanno scappando da una situazione particolarmente complicata, come ben tutti voi sapete. Quindi parleremo oggi chiaramente un po' della guerra in Ucraina. In questo video cercherò di essere il più breve possibile, ma soprattutto ci terrei a che abbiate un po' di pazienza e in qualche modo potreste seguire un attimino il fiore del discorso che ci tengo a fare con voi, giusto per mettere un po' di punti in connessione tra loro, soprattutto arrivando a valutare qual è la situazione del conflitto ad oggi. Questo perché fondamentalmente dopo un paio di settimane di combattimento si è arrivato in una situazione di stallo, fondamentalmente. Uno stallo che vede un esercito russo non spondare come si prevedeva, una resistenza ucraina più forte di quello che ci si prevedeva, anche per quanto riguarda le più rose previsioni. Una situazione quindi che adesso pone una serie di interrogativi e anche una serie di scenari che, per quello che ho potuto vedere, soprattutto sugli italiani che giustamente pongono un'attenzione particolare alla crisi umanitaria, come giusto che sia, ripeto, vi sono però appunto degli elementi secondo me militari su cui vale la pena anche porre un'attenzione e considerare, giusto per capire un attimino quanto questo conflitto possa avere a che fare o abbia già a che fare fondamentalmente con l'Europa. Allora, io mi sono preparato anche per oggi una cartina. Questa è un po' grande come cartina, è un ritaglio praticamente dal rapporto che il Ministero della Difesa, il Ministero del Sarcame francese, rilascia a cadenza giornaliera. La cartina è aggiornata all'altro ieri, ma non vi mostro la cartina dell'altro ieri per una questione di pigrizia, ma per una questione di, diciamo, mancato cambiamento della situazione del fronte. Allora, qui potete ben vedere, scusate se mi oscuro, la situazione ad oggi praticamente. La parte dell'Ucraina colorata di rosso è la parte dell'Ucraina dove più o meno l'esercito russo è riuscito a sfondare, quindi la parte, diciamo, occupata attualmente dall'esercito russo. Più o meno, chiaramente, perché non possiamo dire con certezza quale centimetro, quale chilometro è ad oggi occupato. Si continua a sparare, la situazione chiaramente è in evoluzione, ma più o meno, diciamo, che la cartina rappresenta un quadro molto fedele della situazione. Come volete vedere, vi ricordate dal video precedente che vi ho inviato inizio conflitto, vi sono tre principali aree, direzione, diciamo, dell'attacco russo. La prima è sulla capitale Kiev, che, appunto, come vedete bene, sta resistendo. Piccolo appunto, leggo e sento dei miei italiani, si parla di Kiev circondata resiste. Kiev non è circondata. Kiev è attaccata a nord, attaccata da lanciamento, scusate, di razzi, ma Kiev non è assolutamente circondata. A Kiev si può tranquillamente accedere da sud, sud-ovest e anche sud-est, perché la città non è, diciamo, circondata. La resistenza è riuscita ad evitare che, appunto, le armate russe compiessero questa manovra, appunto, che il Ministero della Difesa francese ben sottolinea. Quindi una manovra a tenaglia per isolare la capitale dal resto, appunto, dell'Ucraina. Non è così, non ci sono riusciti. Quindi questo, appunto, è un ulteriore segnale di come l'avanzata russa, non sta riuscendo ad aprirsi, diciamo, ulteriori brecce, soprattutto per quanto riguarda il fronte nord, quello che coinvolge la capitale Kiev. L'altro fronte, diciamo, che è il fronte orientale, in particolare concentrato sulla città di Kharkiv, che è la seconda città dell'Ucraina, città per due terzi russofona, città nella quale, qui sì, si è arrivati, diciamo, a circondare non del tutto la città, per quello che possiamo, appunto, avere deconfermato, ma si combatte quartiere per quartiere. Quindi qui si ha, diciamo, una situazione un pochettino più grave rispetto a Kiev, alla capitale, ma, appunto, insomma, anche qui la resistenza ucraina riesce, in qualche modo, a tenere il passo, ad evitare che, appunto, l'esercito russo sfondi ulteriormente e possa un attimino arrivare al Dnipro, al fiume principale dell'Ucraina, a quale torneremo tra un po', a in qualche modo chiudere i rifornimenti, o chiudere, diciamo, le comunicazioni per Kiev. Quella che vedete in giallo sono le repubbliche cosiddette autonome di Lugansk e di Donetsk, le repubbliche che Putin ha riconosciuto prima di effettuare l'attacco alla Russia, occupata dalla Russia nel 2014. Qui vi è il fronte sud. Il fronte sud, chiaramente, è partito dalla Crimea, anch'essa occupata, poi annessa con un referendum non riconosciuto dagli organi internazionali nel 2014, e, appunto, da qui, chiaramente, l'esercito via terra è potuto partire. Vi è anche, chiaramente, la marina militare russa impegnata su questo, torneremo tra poco, perché sulla marina bisogna fare un discorso molto più dettagliato. La, diciamo, il sito con, diciamo, la stella che sta indicando l'esplosione, quindi forti combattimenti a Mariupol. Avrete sicuramente sentito la tragica notizia della bomba caduta sul teatro, dove erano rifugiati bambini e donne. Mariupol, appunto, viene fortemente bombardata e questa, diciamo, è una città cruciale per il fronte sud russo, che non ha soltanto un interesse a risalire il paese per andare verso Kiev, ma ha l'interesse a, diciamo, collegare, diciamo, creare un passaggio tra le repubbliche occupate del Donbass, fondamentalmente, e la Crimea, quindi creare, praticamente, un collegamento via terra. Vi è, appunto, un importante anche acquedotto, che porta l'acqua alla Crimea, acquedotto interrotto dagli ucraini una volta, appunto, che i russi sono impostati dalla Crimea, e quindi, appunto, l'interesse russo è quello di creare, appunto, un collegamento di terra. Tenete conto che anche in questa regione la maggior parte degli abitanti, la maggioranza stragrande, parla russo e non ucraino. Quindi, come volete vedere, la zona finora occupata dai russi, ah, tra l'altro un piccolo appunto, se mi permettete, vedete qui ci sono dei punti viola, qui, 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 queste sono le centrali nucleari, qui, scusate, non riesco a vedere bene, queste sono le centrali nucleari attive, per esempio, in Ucraina. Come potete vedere, l'esercito russo ne controlla due, quella di Chernobyl, tristemente famosa, a nord di Kiev, e questa centrali nucleare che si trova nei pressi della città di Zaporizia. Ancora Zaporizia sta resistendo, non è ancora totalmente in controllo dei russi, ma, appunto, la centrale nucleare della Oblast, della regione di Zaporizia, è, appunto, controllata dai russi. Tutti i rapporti delle, degli enti che si occupano specializzati in energia nucleare hanno assicurato che il funzionamento, appunto, delle centrali nucleari non ha ricevuto particolari conseguenze, tutto è sotto controllo. Fonti locali dicono che gli operatori, soprattutto di questa centrali nucleare qui a Zaporizia, continuano a lavorare normalmente, però devono ogni giorno rendere conto e chiedere l'autorizzazione ai russi per poter, appunto, espletare le proprie funzioni. Quindi qui, insomma, c'è anche un discorso legato al nucleare, ma, insomma, non estremamente alarmistico rispetto a quanto è stato detto. Chiaramente, appunto, il nucleare è sempre un problema quando un esercito che, insomma, attacca, e abbiamo visto come prende a bersaglio siti non soltanto militari, insomma, un tale esercito a controllo delle centrali nucleari non, diciamo, desta sensazione di tranquillità. Ma questo, insomma, lo capirete anche da voi. Quindi, giudicate un po', questa, diciamo, è la situazione attuale della Russia. La Russia, se vi ricordate, ha attaccato l'Ucraina con il preciso scopo di arrivare il più presto possibile a Kiev, chiaramente creare anche un corridoio che collegasse il Donbass alla Crimea, ma soprattutto, diciamo, lo scopo principale, come concordano tutti gli analisti militari, era quello di arrivare a Kiev, destituire il presidente Zelensky, istituire un governo favorevole a Mosca che potesse in qualche modo interrompere ogni trattativa dell'Ucraina con l'Unione Europea e con la Nato, portare l'Ucraina all'interno della sfera di influenza della Russia e, appunto, instaurare magari un governo vicino a Mosca, a filo russo, con magari anche una struttura di carattere federale che potesse in qualche modo garantire al Donbass e alla Crimea, ma soprattutto anche a questi territori, di crearsi una repubblica autonoma russofona a parte e di, in qualche modo, ecco, ulteriormente disgregare l'Ucraina, un'Ucraina già in qualche modo riportata sotto il controllo della russa, la sfera di influenza russa. Ecco, vedete, questo diciamo che è un obiettivo militare che in realtà Putin non sembra avere ottenuto e questo, come detto in partenza, è dovuto alla resistenza degli ucraini che si è fatta veramente molto forte e fin dall'inizio non ha permesso ai russi soprattutto di ottenere rifornimenti e, chiaramente, appunto, adesso l'esercito russo si trova in qualche modo impantanato, non riesce a sfondare rispetto a quanto vi ho mostrato prima. Questo pone, diciamo, un interrogativo perché è chiaro che la guerra può essere portata avanti ma non all'infinito. Quindi ci si chiede un attimino, si interroga cosa farà adesso Putin, cosa farà la Russia. Le ipotesi sono due. Da un lato, Putin si potrebbe chiaramente fermare alle regioni conquistate, cercare di, appunto, instaurare una trattativa con Kiev per, diciamo, cessare il fuoco e mantenere, diciamo, il controllo delle regioni che, come vedete, ad oggi potrebbero portare la Russia soprattutto qui ad aumentare, diciamo, la sfera di occupazione, il controllo della Russia arrivando all'obiettivo minimo di collegare il Donbass alla Crimea, quindi, diciamo, un obiettivo militare non primario ma comunque, diciamo, minimo un ulteriore, diciamo, indevolimento dell'Ucraina. La seconda ipotesi è che Putin va davanti con la guerra. Va davanti con la guerra totale per evitare, diciamo, l'onta di una parzialità la sconfitta come potrebbe essere quella di non essere riuscito ad arrivare a Kiev e arrivare a destituire il presidente Zelensky e il suo governo. È chiaro che, appunto, tra le due ipotesi non si può sapere come va avanti. Questo, chiaro, tiene conto di una serie di fattori come anche, per esempio, l'entità dei soldati russi inviata in Ucraina. Come avete visto, magari, in alcuni video, i soldati inviati in Ucraina sono per lo più giovani, sono per lo più reclute, sono persone che credevano, appunto, di poter entrare in Ucraina ed avere come resistenza persone che acclamavano i russi entrando festanti nelle varie città con lancio di fiori e quant'altro, in realtà hanno trovato delle persone motivate orientate ad ogni forma di resistenza buttandosi sotto i camion. Avete visto, insomma, tutte le scene, quindi potete veramente capire quale è stato, diciamo, il gioco di forza, no? Pur avendo un esercito, il secondo o terzo esercito più forte al mondo, la Russia in realtà ha incontrato una resistenza molto più motivata rispetto alle truppe inviate in Ucraina e questo, chiaramente, ha portato ad uno stallo di cui oggi, appunto, stiamo parlando. È chiaro che, appunto, un'inaspirsi del conflitto comporterà una giunta di truppe russe in Ucraina e, appunto, l'interrogativo che ci si pone un po' anche a livello di giornalisti e di analisti è quanto il fiore dell'esercito russo è stato coinvolto nel teatro di guerra ucraino quanto in realtà può essere ancora integrato quindi diciamo i reparti non di reclute ma i reparti quelli un pochettino più specializzati di Putin possono, insomma, arrivare a prendere parte attiva nel conflitto ucraino e cercare un attimino di migliorare le sorti del conflitto secondo il punto di vista chiaramente di Mosca. Queste sono le due, diciamo, ipotesi quindi o si arriva ad uno stallo con la Russia che prende il possesso delle parti meridionali dell'Ucraina o, appunto, una guerra totale che va avanti. Vi è una terza ipotesi sulla quale poco si è parlato ma che vorrei un attimino affrontare con voi che è quella della possibilità che Putin possa aprire altri fronti che non siano soltanto i due principali quindi Kif e Kharkiv. È stata una notizia due giorni fa se non sbaglio una, diciamo, analisi delle varie posizioni navali fatta attraverso satellite riportata da un importante sito di analisi di Grazie.